eh? sei già live su tiktok? eh no, tre, due, uno, adesso sì, adesso no, io ancora devo mettere altri giochi ho capito, spingi, ho spinto, siamo dentro, fatto, categoria post, grazie mille, ok dovremmo ho scritto Katia con la c, ma come si permettono, amici, bravi, Cri, fai una cosa, se vai nel canale di Katia scrivigli Katia con la c, non con la k, no, io ti disconosco e scrivo Babba con la q, le dà un sacco fastidio, fidate ma perché il mio nome è con la k, ma scusa, a parte il fatto che non ti chiami Katia nella realtà, però va bene lo stesso vabbè ma non sei la mia vera madre, non urlarmi contro, ma cosa mi scrivete Katia, ma cosa mi scrivete Katia, ciao amici di kak raga, io mi chiamo Elisabetta, ma state bene? No, lei si chiama Babba con la q ciao amici di tiktok, siamo live, insieme a Babba Lucy stiamo continuando tiktok, ovvero il gioco vostro siamo arrivate a metà, credo, più della metà e qui mi stanno scrivendo tutti Katia con la c, quindi meno male che ci siete voi, chat di tiktok perché sennò veramente tutte persone false, sono circolata da persone false, siamo insieme a Babba Lucy che sentite adesso dire ciao bene, bravissima bravissima ciao incredibile ciao siamo insieme a Babba Lucy e quindi se volete siamo anche in live su Twitch, i canali sono Babba Lucy e Yugali siamo anche in Stream Squad, quindi cliccando il tasto Stream Squad in basso sui nostri canali potrete vedere entrambe le live sto sudando per fare questa cosa ragazzi, mi raccomando, soprattutto lasciate un follow on, mi raccomando, mi raccomando eh sì, bella fisica lei fra l'altro è bella fisica, io sono solo in che senso sono bella, che stai mi stai dicendo che sono grassa Katia? no, perché tu non conosci bella fisica? signora, i mori, signora! non sei bella fisica? ma non conosci bella fisica? se me lo dici sì no, sì 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 o no? no ma quella è anziana ma come? vedi, la conosco ma non chiedi di dire la tua zia che quella ha già 34 anni allora ma perché devi dire anziana a me? prima di tutto non l'ho detto io ma sono gli altri che stanno dicendo che sei anziana ma che tiktok ti vedi? scusami, non conosci bella fisica? bella fisica? ma è su tiktok questa cosa? è certo che è su tiktok cioè dovunque ma io lo seguo tiktok ma non mi è mai spuntata questa cosa è come? bella, bella proprio bella fisica bella non la conosco niente raga vabbè io seguo tiktok più giovanile di lei vabbè ho capito non capisci proprio l'arte qui è l'arte prendi l'arte e mettila da parte prendila da parte vedi che c'è Angela Angela tutti quanti urlano Angela Katia ma tu hai acceso il gioco? perché io ho acceso il gioco perché tu lo senti? bella super no no hai acceso il gioco tu? eh sì ho acceso tutto ma siamo ancora fermi alla cosa delle lampadine? allora Eli io non lo so perché io non l'ho più aperto questo gioco ah no allora no mandatemi il tiktok perché non lo so per favore le inviate una bella fisica una bella fisica a caso ma sì dai c'è una fisica ciao amici di tiktok e arrivi allora Fer noi avevamo sbloccato la scala te la ricordi? pronto aspetta sulla casa eh ti ricordi che noi avevamo sbloccato la scala? sì io infatti ce l'ho al telefono bravi è da lì l'uccello l'uccello d'acciaio bra se c'hai l'uccello adesso puoi salire ah non lo conoscevo sono salita oh maronna maronna Eli ma potremmo fare un altro gioco meno in sento già i punti in saccoccia eh zitto Ali te li faccio perdere sti punti allora da adesso in poi Eli abbiamo un'ora di tempo per finire questo gioco sì sto sudando e poi che succede? eh poi poi balliamo la samba penso cioè ci meritiamo almeno una samba allora senti io sono in una stanza sopra alla stanza del telefono ok no è lei che c'ha l'uccello non ce l'ho io che mi dicono che sono in pista con l'uccello eh no l'uccello non ce l'ho io amici io vabbè quello ce l'ho per vero però eh no sì perché lo volevi aver finto ma non mi scrivete che gli ho con la c vi dire il naso allora io ce l'ho anche con la c raga spam spam ti banno dal mio canale spam ti banno dal mio canale e bannami tanto lo stesso te lo posso dire entri con un altro account è con un altro account allora io mi chiamo Elisabetta io Elisabetta in realtà vabbè andate a cacca in realtà in realtà voleva dire che lei si chiama Katia con la c e io mi chiamo Katia con la k avete fatto tutti bene a scrivere Katia come già mai nella vita io ti picchio no 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 giocate che ho scommesso i miei poveri ultimi ma io pure non capisco perché lo scrivo da me ma perché tu sei Yucali l'altra è Babbalusi scusa vedi vedi che hanno fatto il cambio almeno non ti chiamano più ah no scusa non ce l'ho qua sì dovevo urlare Tiziano allora ti immagini spuntava Tiziano e diceva sì sarebbe stato bellissimo grande colpo di scena ciao Yucali ah no streamer sbagliato vabbè mandate a cacare posso dire che confermo confermo quello che ha detto lei qua ci state facendo perdere tempo allora noi siamo in una stanza con io ho degli disegni sul muro io ho un uccello guarda a casa ah ce l'hai l'uccello io ho il becco di un uccello ti potrebbe essere utile me lo vuoi dare? allora non posso toccarlo però posso interagire credo con un apparecchio no non è vero posso solo guardare dei disegni di uccello cioè di meccanico uccello però di meccanico ho il modo per come costruire l'uccello piedino basta andare su twitch su twitch uno dei due canali lo apri in basso c'è scritto via squad stream clicchi e ti vedi entrambe le live così puoi scrivere in entrambe le chat sono disegni di uccello ti posso far un uccello in gabbia ma è finto o è vero? che posso cambiare ok sì ma è finto o è vero? un saluto agli odobbi finalmente ti pecco in live ma scusate sì che poi è uguale caccio è identico ma soprattutto ho un bellissimo cioè no nel senso pure i peli ho un bellissimo pelo pelo di barba ho capito pepo vai allora queste sono cose che capisci tu va bene allora io ho tre lettere sotto all'uccello cioè tre lettere sotto l'uccello allora io non credo l'uccello è finto io posso darti dei numeri volendo no mi servono delle lettere però ti servono delle lettere ma tu sei nella stessa stanza mia? sì cioè quella in alto al telefono sì ok no io ti posso dire che ho questa cosa meccanica cioè ho questi pezzi meccanici per costruire l'uccello perché io ho già l'uccello meccanico però magari A può essere qualcosa che una lettera che ti serve? C X B I tre tre ne ho hai detto già cinque quindi non ho allora prova ABC perché dovrei mettere ABC? non è banale? vabbè magari uno ci sarà letter A in una delle immagini esatto quindi ABC credo A e U no no non è Y ha messa ciao Ginevra è un riassunto della situazione un riassunto della situazione aiuto quanti enigmi che non sapremmo risolvere allora noi manca ma noi abbiamo aperto più il cancello con le lampadine no te l'ho detto ah sembriamo i cazzi e quindi non abbiamo più fatto questa cosa ora possiamo andare avanti qua perché manca il cancello tre lettere sotto l'uccello pal pal ciao pal allora come pal tre lettere sotto l'uccello pal Luigi ci sta un pulsante sotto nella live dove le avete lette? no non devi essere abbonata è gratis dove le avete lette le palle? non ho capito ciao Giorgia no tu avevi tu avevi un codice mors se non erro ah allora a me dice che alle nove se io giro in modalità oraria nella stanza quella lì dove io avevo il codice mors alle nove ho il codice mors ma alle tre c'ho l'uccello non ho capito aspetta andiamo nella stanza del codice mors fermi perché io ho un uccello in gabbia con tutto la possibilità di mettere tre lettere quindi allora io forse posso rimettere il codice mors allora mi dici nella stanza quella lì con la tromba quella con la tromba aspetta eh che cazzo sono? c'è Dodo che sta accanto allora la stanza con la casa con la tromba io avevo le cose che dovevo aprire le cassette della posta? sì brava non lo so allora perché a me continuo a darmi dei continuo a darmi ciao Matthew continuo a darmi del codice mors qui nella stanza con la tromba la parte destra del cancello si risolve con qualcosa che si trova dall'uccello invece la parte sinistra del cancello si risolve con il mors ah e potrebbe essere effettivamente una bella idea e allora e allora o facciamo quello e però mi serve l'uccello il codice mors ti dice le lettere che devi dare a babba e ma io non ho un traduttore mors tu per caso hai un traduttore mors? no no? non ce l'hai una cosa per leggere le lettere mors? se me la mandi la metto su google eh non ce l'ho io allora lettere aspetta ti dico lettere mors vediamo un attimo se lo cerco su internet ma è strano che io debba cercarlo su internet però c'è credo questo ne mai credo sia poloski è pinnato in evidenza proprio il modo per vedere entrambe le live allora sventiamo p p p p quindi p p p p allora prova prova a segnarmi prova a segnarmi i codici perché qua ci sta un codice mors ma non credo che siano tre lettere credo che siano più di tre lettere credo che siano almeno quattro però nel dubbio io me le aspetta io me le segno no perché da me sono tre lettere quelle del telefono ok sono tre lettere non pippare è lei che sta pippando ma ma la difficoltra cioè pipipipipipi non stava pip no da allora io ho quattro lettere sì potrei avere quattro lettere la prima è puntolinea punto punto puntolinea punto punto è l poi c'è la 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 lam l eh l a m ma l l ce l'ho eh non lo so me lo devi dire tu sì l la lam 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 lamp ciao lordino è lamp non puoi girare il coperchio della lucina sulla destra no aspetta posso soltanto far partire questa cosa è la e beh beh stop ciao carmela mi fate capire ciao francesco mi fate capire un attimo se io sto vedendo tre lettere o quattro me lo pinni questo messaggio l'ela per favore ok cioè mi potete far capire se leggete tre lettere o quattro carol se vuoi saperlo sul canale youtube yukali twitch sto upando tutti i video quindi per recuperare tutto il vecchio puoi recuperare quelli che mai è un po' un casino stiamo giocando un altro gioco ciao angelino allora fammi sentire dal capo io voglio uscire da qui fermi perché quindi col morse si fa questo il codice morse sì allora questo è giusto eh ma questo ce l'ha lei raga io non posso fare niente è che è giusto giusto il codice morse che poi è strano che ti mettano il codice morse e non ti danno un modo per all'interno del gioco allora altrimenti possono essere tre le ma tu le puoi mettere queste lettere? sì 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 allora la prima è l la l la puoi mettere? sì già fatto lpp lpp sì sono di caserta p aspetta altrimenti non va? non è successo nulla perché c'è max che mi dice ljp lj? provo j? prova ljp? no nemmeno j no non mi assumo la responsabilità nel caso che sia corretto non sia corretto cosa matt che io non ho capito ah tu dicevi il fatto del morse però ha senso perché se io salgo sopra se io vado qui e salgo sopra c'è questo orologio che mi dice che a sinistra si sembra la cancellata sembra la cancellata ciao albi la i? ha detto j aspetta no green non porta roblox posso mettere la i? ma non cambia niente lcd ma no non lcd non ci droghiamo l ld se si usasse il morse per risolvere l'uccello perché mettere tutti quei fogli di istruzione per l'uccello meccanico? esatto quindi no non c'è più l'orologio della stazione no non c'è più però se vedete questa sembra il disegno che ho io con metà uccello e metà codice morse sembra il disegno del cancello sembra il disegno che noi abbiamo davanti all'inferriato del cancello no raga è quello per forza no ragazzi clicco l'uccello non succede nulla no raga è quello per forza quindi vuol dire che la metà a destra risolve si deve risolvere con l'uccello la metà a sinistra si deve risolvere con il codice morse hai altro nelle case? aspetta vado a controllare e non lo so aspetta il nome che dovete mettere era nel discorso dell'altra volta con il telefono no perché la parte col telefono è finito là eh si raga quello col telefono l'abbiamo risolto ciao ehi ciao Asia ciao Emanuele benvenuti cioè vedi questo qui l'abbiamo risolto ed infatti ci è uscita la scala quindi dobbiamo capire adesso sopra che cosa dobbiamo fare allora Katia io posso fare solo le lampadine e la parte col uccello nelle altre cose non ho più niente e nell'uccello devi mettere le lettere nell'uccello devo mettere le lettere e le lampadine le devo accendere e non puoi fare nient'altro eh perché qua le cassette postali sono finiti raga non si possono aprire altre cassette postali nella cassetta postale che allora si lo so ma se leggi c'è il nome dentro quel discorso la scala solamente l'ha il discorso eh no that before I left me eh ma io il problema è che non ce l'ho più luxina della tv non posso vedervi entrambe ah col vuoi mettere col ah si è vero col k-o-l ah col si k-o-l perché k-o-l perché k-o-l col è il nome del vecchio uccello ah aspetta quindi potrebbe essere quello il nome dell'uccello ehi ma col la k dove è qua non ce la faremo aiuto col col k-o-l secondo me potrebbe essere un'idea vediamo se è il nome dell'uccello e vedo che è vero yes bravi non ti è svegliato l'uccello adesso scusa lo dovevo scusa che suono fa che suono fa dai eh eh col cazzo dicono no era col non col cazzo no era col le bar eh e ora che faccio non lo so è qua che cosa ti dice è un codice morso aha ok dammelo aspetta come faccio a capire quando inizia ciao Sara perché hai messo là che fa eh no quando c'è una lunga pausa ok questa è la lunga pausa quindi come fa il corvo fa pip pip cra si si lo dico io eh vai dimmi pip pip piccolo cralum no che cazzo ma come si fa è troppo veloce scrivilo credo eh allora ok si è spento di nuovo si ma sei pronta si spento acceso spento acceso non lo so acceso acceso ah ma lo devo scrivere ma io non capisco cosa vuol dire spento acceso secondo te ma in che se allora non ho capito cosa come fa il corvo è la lucetta del tuo cancello può essere no eh ma ho capito ma come fa il corvo cioè che è un codice morso o è un codice di cancello no no il codice che dà il corvo è il suo occhio che si accende e che si spegne ah quindi si accende e si spegne l'occhio sì ahhh ok è diverso non è quindi la lucetta si accende quando fa la linea ok quando è spento vuol dire punto quando c'è la luce vuol dire trattino dice Sam però secondo me no ha più senso che gli occhi che si accendono e si spengono secondo me potrebbe essere più facile questa soluzione sì allora vuoi ridirmele da capo che io me le scrivo sì allora e non lo so allora spento acceso spento acceso beh ha capito me lo fa la parco di merda allora non mi sa che se mi accendono se mi sa che me lo scrivo con calma non ti preoccupare che qui non abbiamo un timer sul collo quando è acceso è acceso quando è spento è spento scusa la febbre ce l'ha iugali o pappa secondo me tutte e due allora però fa caldo raga scusate ci sono 30 gradi è lo spazio tra accensione e lo spegnimento pausa lunga linea pausa breve punto quindi allora alcuni mi dicono alcuni sono ancora convinti che sia che ne so è una luce eh la luce può essere una pausa la durata della luce se dura tanto vuol dire lungo se dura poco vuol dire punto dicono che sono stata sconfitta dall'uccello cadi babba sono i boccali di birra dicono a me eh lo so è tre ore che mi fanno boccali di birra bicchiere di vino è normale che qua è tre ore che caliamo o qualcosa raga vedete vedete non bevete perché altrimenti non sapete riconoscere gli occhi dell'uccello allora io non lo so lo faccio ripartire però non ho capito tu fammi sentiti libera pensa di libera vai come chiara ferrante acceso spento acceso 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 spento spento acceso 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 spento hai fatto qualcosa tu nel frattempo ho scritto quindi è sas 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 va bene abbiamo abbiamo che cosa vuol dire è sas spento acceso ok ok allora lo mettiamo entrambe mo 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 sì 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 ovvio che lo dobbiamo mettere entrambe dobbiamo metterlo dalle 12 alle 6 quindi la prima metà grazie avrà quindi 3 6 9 e 12 vediamo un po' se sono 12 3 6 9 12 comunque c'era ragione babba perché erano le accensioni gli spegnimenti sì allora già bene ehi bene cosa devo fare tu mo ti allora dal cancello devi prendere la parte destra delle luci vai e devi fare spento acceso spento allora spento acceso spento acceso 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 ok spento spento acceso ok acceso acceso spento ok hai fatto perfetto e quindi noi la prima metà ce l'abbiamo sì si è aperto ehi si è aperto aspetta com'è che ti si è aperto non lo so ce l'ho aperto dimmi com'è l'hai messo le luci allora sì aspetta conca ti dico allora ti dico quelli a sinistra parti sempre dal cancello miracolo che culo ok allora da sinistra quindi andando dalla come ti lo dico vai al contrario verso sinistra quindi switch sempre verso sinistra sì sì spento acceso acceso poi cambi pagina vai e fai spento acceso acceso ok acceso spento spento ok poi cambi pagina e fai spento acceso spento oh eh eh si è aperto eh vedi ti ho detto che avevamo finito fatto aspetta ma e quindi ce l'ho aperto eh era giusto era giusto sto entrando in casa eh lì sì anche io allora ci stanno le delle erbe e anche allora io c'ho del rosmarino eh una scala con una frase anche io ho una scala l'ho fatta scendere e la frase mi dice tutti questi anni svizzera hanno reso possibile finire l'orologio le mie memorie le memorie dimenticate di l'ERC eh sono state sospicioso sospetto sospette sospette from on her face dalla sua sulla sua faccia sulla sua sul sì dalla sua stessa faccia dalla sua faccia la faccia forse c'aveva sospetto ho controllato due volte l'orologio di l'ERC e funzionava esattamente come avrebbe dovuto ok aspetta che devo scendere l'altra scala ciao Pia eh ah all'inizio lei non voleva l'orologio ok ma lei ha detto che era stata tired e annoiata no stanca era era stanca dei suoi dei miei regali ok ehm c'era rotto il cazzo dell'orologio va parliamoci chiaro no non ho capito allora Edith non cura non so che cosa sia la prima parte eh eh comunque dice che non c'era bisogno che non pensava che un crack una spezzatura una spaccatura nell'orologio avrebbe fatto differenza ah ma io c'ho un sacco di borracce e a me stanno bussando la porta Ed non so che cosa voglio dire raga ho tenuto credo eh credo che sia il passato di trattenere quindi ho trattenuto quindi ho trattenuto fuori da lei qualsiasi 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 qualcuno any anyways vabbè perché io avevo bisogno mi fa ridere perché lo fai da sola lei con me lei con me cioè dentro o fuori ce l'ho sia dentro che fuori ok l'importante è averlo averlo andando avanti allora ho passato degli anni a collezionare diciamo a prendere del tempo per noi tempo che sarebbe stato aggiunto alle nostre vite quindi praticamente questo si è messa a far sto orologio questa anzi credo che sia una ragazza si è messa a far sto orologio per fare in modo che insomma sia lei che il compagno la herte qui come cacchio si chiama potessero avere del tempo succhiato dalle vite altrui non dire la parola succhiato è vero allora io ho delle borracce con dei numeri sopra io ho dei contenitori è pure io un sacco di borracce con un sacco di numeri poi vai vai sopra che mi dici I never allora non ho mai detto a lei che che mi stava facendo no che il tempo si stava perdendo ogni tu dimmi ti aiuto se posso ti aiuto te lo passo io il compito vai only that the clock si solo che l'orologio ci ha lasciato essere ci ha lasciato ehi allora che cazzo non mi entra la parola con cazzo siamo stati would would let us be together forever ci ha lasciato esatto ci avrebbe fatto stare insieme per sempre per sempre quello non mi veniva la parola mi fa no mi fa ridere che vai in panico da sola e stai facendo tutto tu si ma lo sapevo cosa erano troppe cose ma a casa lo sapevo uff comunque lei è scomparsa invece nell'orologio e non l'ho ancora trovata ah quindi qualcosa è stato storto loro pensavano di però in realtà lei è stata risucchiata dentro e quindi non sono potuti stare insieme va bene io sento un sacco di glock click io mi sento alle interrogazioni e li ho toccato e li ho toccato un fatto madonna e li ho toccato un fatto non toccare un tasto da lei ci ha toccato una borraccia she closed a lei a lei ha messo le mani attorno a lei chiuse la mano di lei no vabbè comunque lei chiuse la mano di lei con l'orologio dentro ok io non ho mai visto più lei ancora ok quindi praticamente quando hanno fatto questo esperimento probabilmente qualcosa è andata storto lei è scomparsa con tutto l'orologio e lui è rimasto come un besce senza niente va bene sei ehi basta io faccio quello che posso allora c'ho una borraccia con una lampadina dentro ok io il barattolo va bene pure io c'ho un numero sulla borraccia come te lo devo dare io c'ho un altro numero forse dobbiamo sommarli ma sta succedendo qualcosa certo se a me a me fa clock ogni tanto you beat the game such a shame to see all that time go to waste aspetta Eli un attimo che a me sta io sto guardando un orologio enorme io pure io l'ho clicca a me sta scritto ah tu hai perso 163 minuti della tua vita what the fuck forse è il tempo che abbiamo giocato Katia è quando muoio come quando muori perché muori e me hanno 863 minuti ma vabbò che vuoi che siano 163 minuti in una vita di godure ma che non ti preoccupare hai altri 7 miliardi non ti preoccupare non so quanti è troppo positiva non so quanti ne siano domani dai che cazzo ora mi tocco le palle no allora non ho ancora costruito una strada per uscire da questa cosa spero che tu e il tuo amico apprezzerete questa questa situazione ma quindi è finito e non lo so ho perso 161 minuti della mia vita e Amalie ha aggiunto 161 minuti alla sua quindi si è fregata il nostro tempo di entrambe e l'abbiamo finito Eli lo so lo so da un po' ma scusami ma ne me lo vuoi dire lo so tu almeno un po' di tempo va ma me lo vuoi dire bravo finito abbiamo vinto ma raga ma scusate ma è durato troppo poco eh ma non pensavo che durasse così poco ma lo potevamo finire l'altra volta vaffanculo ma è vero ma scusami a me è stato scritto che ci volevano altri 40 minuti per finirlo Katia allora Katia oggi mi ha detto non ti preoccupare ci sono 40 minuti di gameplay ok e io ero convinta cioè scus devo puntare di più carina sta cosa del tempo rubata no è fica è che vorrei capire ma c'è un coso c'è un coso un finale buone un finale cattivo oppure questa stronza ci ciuccia il tempo e basta no c'è l'ha zucciato perché abbiamo giocato a questo gioco di merda eh no ho capito però ma che si vince eh si vince la gloria si vince che abbiamo perso un sacco di tempo no allora posso dire una cosa posso dire una cosa romantica sì il tempo non è andato perso ho passato 163 minuti con la mia amica esatto sì ti rimetto io vai il tempo il tempo quale tempo però babba come mai ha giocato due minuti in più è vero perché tu hai perso dei minuti in più e io no cioè mi è salito il diabete eh vabbè il cancello sculato ha fatto risparmi mi dovete accusare di queste cose io non no no ma lei l'ha fatto col cuore non ho fatto niente ah lo so perché perché hai iniziato prima di me perché quando l'altra volta io ho chiuso la live e ho raidato ho lasciato tipo l'ho caperto per un tot di tempo vabbè però anche tu ti fai ciucciare i minuti dicono che ho perso due minuti in più per leggere le parole in inglese vai a cacare cianci ma noi eravamo entrambe sul coso quindi non credo che sia quello vabbè dai comunque è stato difficilissimo però bello è stato un'esperienza è stato molto carino questo gioco questo qua è stato molto carino è stato veramente cervellotico al massimo però fico fico mi è piaciuto è stato molto bello giocarlo insieme e non vi preoccupate perché tanto abbiamo un altro gioco da fare con cordi eeeh eeeh grazie a tutti